Sono stati Leonardo Piraccione e Laura Torrisi, gli ospiti d'eccezione, dei Meyer per amico, una straordinaria dell'ospedale pediatrico fiorentino. Quando Meyer ti chiama per passare una mattinata insieme è anche molto divertente. Poi quando è un'istituzione, una fondazione, una cosa così importante bisogna per forza venire. Poi sono di Firenze, Meyer di Firenze, fosse stato di San Pietroburgo sarebbe stato più difficile. Sei mai stato al Meyer come paziente? Sono stato da piccino, sono stato a 5 anni nel Meyer piccolino perché questo è grande rispetto a quello e ho un ricordo da bambino. Per cui siccome io mi ricordo nemmeno di che ho fatto 6 mesi fa, figurati quando avevo 5 anni. Io collaboro con Meyer e Alessandro Benedetti da 4 anni ormai, tutti i Natali ci vediamo per cercare di portare un po' di gioia ai bambini che al Natale, ahimè, sono costretti a restare qui dentro. Quindi oggi non potevo mancare insomma. Siamo arrivati alla terza edizione di questa apertura straordinaria del Meyer, è sempre una grande festa. È una grande festa, una bellissima festa, sempre più ricca dell'affetto e della presenza di tutte le famiglie fiorentine e toscane. Una festa di cui noi approfittiamo per aprire veramente tutte le porte dell'ospedale, per favorire la conoscenza dell'ospedale da parte di tutti coloro i quali ci sono vicini e vogliono conoscerci ancora meglio. Oggi qua al Meyer abbiamo trovato Leonardo Pierazzoni, Laura Torrisi, sono tanti personaggi del mondo, dello sport e dello spettacolo molto vicini a questo ospedale pediatrico. Sì, per fortuna, questo è un segnale per noi del valore del lavoro che noi facciamo e quindi l'amicizia e l'aiuto da parte di tutte queste figure così importanti è uno stimolo ulteriore a migliorare ancora di più.